L'Otario Osseliani, nato in Georgia nel 1932, è uno dei più grandi registri di tutti i tempi, le cui opere sono state spesso vietate nei territori dell'ex Unione Sovietica. Tra i suoi capolavori, i favoriti della Luna, un incendio visto dal lontano e briganti, tutti premiati in varie edizioni del Festival di Venezia, e lunedì mattina Orso d'Argento al Festival di Bernino del 2002. Tra le sue opere, anche un piccolo monastero in Toscana del 1988, ambientato nella campagna di Montalcino, che il critico Tullio Kezzi ci ha definito una metafora gentile della vita semplice e del quale state vedendo alcune immagini. Agli Osseliani abbiamo chiesto quale rapporto ci sia tra vino, cibo e cinema. Questa la sua originale risposta. Ma perché avete scelto le donne? Non bisogna scelare le dame. D'abord le dame, poi altre cose. Perché avete scelto la bellezza della musica? Perché avete scelto la bellezza dell'arte picturale? Perché avete scelto la bellezza del Vino e il Vino e il Niam Niam. Guarda lui, guarda lui. E beve, la beve ancora. Vieni, vieni. No, no, te piglia il padre, lo do io. Vieni. 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 Vieni.